Tassa sui rifiuti meno onerosa per i cittadini di Montesilvano oscillerà dallo 0,2% al 2,8% la riduzione grazie a un provvedimento approvato nella giornata di ieri dal Consiglio Comunale che andrà a sostegno delle categorie più deboli in misure progressive. La notizia che invece non è stata presa con entusiasmo da altri è quella dell'aumento della tariffa per due categorie. Alberghi e banche avranno un rincaro sulla tassa ma non tutti, solo quelli che accolgono i migrati. Questo non significa che siamo contro l'accoglienza, sia ben chiaro. Siamo contro probabilmente questo modo di voler generare profitti senza rendersi conto che effettivamente il proprio egoismo ce l'ha poi un danno per tutto quanto il territorio. La decisione arriva alla luce di alcune considerazioni come quella della compromissione di zone prettamente a vocazione turistica che saranno danneggiate da questa scelta effettuata da alcuni albergatori. Se da un lato gli alberghi aderenti al progetto di accoglienza avranno guadagni grazie ai contributi versati dallo Stato che prevedono 30 euro al giorno per ogni migrato accolto. Dall'altro c'è un danno causato all'intera categoria che vive di turismo. Ad oggi abbiamo due strutture alberghiere che sono inserite purtroppo, devo dire, proprio nel pieno delle zone turistiche della città. Questo ovviamente, oltre che generare dei timori nei residenti, va a provocare delle indubbie ricadute negative su tutte quelle che sono le aspettative del territorio su una stagione turistica che sta per partire e che potrebbe esserne condizionata in negativo. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!